Siamo alla vigilia del Tocatì, il Festival Internazionale dei Giochi di Strada, giunto alla tredicesima edizione. Le immagini si riferiscono ai Ri, un giovane gruppo fortemente legato e attento alla tradizionale musica catalana, ma allo stesso tempo innovativo. La Catalunia sarà infatti l'ospite d'onore di questa edizione, porterà a Verona non solo i giochi, ma anche la musica della regione della Spagna. Piazza dei Signori sarà come sempre il punto centrale del Tocatì, per alcuni giorni si chiamerà proprio Plaza Catalunia. Ma tutto il centro storico sarà interessato dalle mille iniziative della manifestazione. Le prime si terranno già domani sera, ma il clou sarà soprattutto nelle weekend, a partire dal tardo pomeriggio di venerdì. Attenzione come sempre alla viabilità, alcune zone del centro resteranno chiuse al traffico e alcune modifiche riguardano anche i parcheggi.